O Dio, custode e redentore degli uomini, che manifestasti le tue meraviglie nei profeti da te scelti, e donasti al profeta Eliseo lo spirito di Elia. Degnati benevolo di accrescere in noi i doni dello Spirito Santo. Perché ripieni del tarisma profetico possiamo ovunque testimoniare la tua presenza e la tua provvidenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.